Hai parlato di Raffa Leao, ma tre talenti in squadre diverse che quest'anno stanno trovando difficoltà sono Leao, Varascheglia e Chiesa. Cioè, quanto c'è di loro e quanto c'è magari del contesto tattico? No, ma... Varascheglia, ti faccio una cosa, io lo vedo sempre, non so perché, ma io lo vedo sempre giocare bene io. Varascheglia a me mi piace da impazzire a me. Poi, e tutta la squadra, ragazzi, anche come ti fa giocare la squadra. Poi, giustamente, tu mi dici, Varascheglia costa 100 milioni, si deve arrangiare. Leao si deve arrangiare, Chiesa si deve arrangiare, no? La squadra ti deve dare una mano, ma poi dopo il singolo che è il campione della squadra, ti deve arrangiare. Sti cazzo, mi arriva la palla, vado a cercarla e ti dà da fare, no? Quindi... Sì, diciamo che anche Leao che zittisce il pubblico dopo che non segna da quattro mesi. Non faceva così per dire tutti a parlare, tutti quanti, chiacchierate su questa minchia, diceva, capito? Ah, ma su questa minchia è la... Però capisci che secondo me... Quella della minchia l'aveva un attimo... Però quella è anche una questione di atteggiamento che secondo me potrebbe evitare. Ma sai cos'è il problema? Io lo capisco, no? Se tu non fai gol un mese, un mese e mezzo, figa, ti ammazzano, ti massacrano tutti. Ma è troppo. Cioè, capisci cosa vuoi dire? Giusto, poi uno dice, ma ti danno... Perché poi alla fine in Italia si dice, ma ti danno un sacco di soldi, devi subire... Ma non è sempre così. Lui si impegna, cerca di fare... A volte sembra un po' scazzato, ma è il suo modo di essere, il suo modo di camminare, il suo modo di fare. No, ma non è così. Perché comunque io parlo sempre col Cap, con Paolo, mi dice che lui ci tiene, si allena. Non è che... A volte non ti riescono le cose, a volte c'hai talmente tanta pressione che fai un po' più fatica, no? Ma in quel caso comunque sbaglia, secondo te, a fare quei gesti lì? Ma no, ha fatto così, parlate tutto, ma è divertente. Cioè io, ci staccate, fanno peggio, no? Ma vabbè, ma quelle sono tutte cazzate che... Sì, vabbè, lì c'era la caraventura. Cosa è una cosa, io se ero lui, levavo la maglia, ha fatto un gol della Madonna, ieri. Lui ne faceva, andavo in giro per il campo mezz'ora io. Cioè, prendevo il fisco dell'arco, lo buttavo via, lo dicevo, fammi insultare. È meglio. Però, cioè, quando Leao sta bene come ieri, è divertente, no? È bello da vedere, no? Quindi ragazzi, cioè... Poi loro sono estrosi, quindi ti fanno... E sono così loro. Quindi li ami un minuto, poi non li sopporti, poi li ami, capito? Sono così. Sì, come era Re Coba, come era... Papa lo amavo tutti i minuti. Che ne so, no? Tutti i giorni. Questi qua, ma sono tutti così, come era Baggio, no? Quando giocava Baggio, non la ciappava, no? Basta, quando è... A me piacevano. Totti, uguale, Del Piero, ma sono così, perché comunque ti aspetti... Allora, se tu non ti aspetti niente da questi, tu non parli nemmeno di loro, giusto o no? Sì, sì, è vero. Facci caso. Se te non ti aspetti niente da un giocatore, non ne parli nemmeno, no? Ma se ti aspetti qualcosa... Io quando ti dico... Io ho giocato con Totti, Baggio, Del Piero, Nazionale... Io quando avevo la palla lui, mi aspettavo qualcosa. È perché sono quelli che ti fanno la differenza. Mi aspettavo una palla a gol da... Le critiche... Mi aspettavo una palla... Ma è normale. Se uno non è... Ma poi sono quelli i giocatori che ti fanno innamorare. Come Re Coba, sì. Capisci, cioè, questi giocatori qua... Non so, se Crespo non faceva gol per... Due partiti, gli dicevo... Erna, che c'hai? Tutto a posto? Stai dormendo a casa? Perché? Perché da lui mi aspetto un po' a partita. È così. Capisci, cosa ti vuoi dire? Cioè, quello che ti vuoi dire... Totti, dico... Fra, e tu per te non fai gol, che è successo? Ti mando un messaggio... Che è successo? Che c'è? Ma nel piede? Cioè, cos'hai? Perché io mi aspetto qualcosa da loro, no? Ma è normale. Quando giovo a Ronaldo... Ronaldo, tutto a posto? Se lui non faceva gol ogni mezz'ora, gli dicevo... Che è successo? Ogni dieci minuti... Siete giocatori, uno o due partite... Ronny, dopo... Una volta ho guardato a San Siro... Giochiamo... Guarda, 41-0-0-0... Ronny, che c'hai? Si è fatto male? Cioè, capisci? Il problema è che da questi qua mi aspetto qualcosa. E così è. Quando vado a vedere i marcatori, vado a vedere se ci sono loro. Cioè, io mi ricordo, dopo le partite vedo Vinzaghi. Oggi non ha fatto gol. Dicevo, ma Pippo perché non ha fatto gol? È uscito? Tutta posto c'è. Perché mi aspetto a che... Mi aspetto un gol. O Scheve, o Trezeghe, o Del Piero. Perché così, no? Batti Stuta. Mi aspetto un gol a partita. E se non lo fanno tutti a partita, dico... Che cazzo ha fatto? Il male alla coscia? Il male si è stirato? Capisci? Quindi, il problema è che ci sono sempre con i grandi. I numeri 9, i numeri 10, i numeri 7, no? Sono quelli. O l'11, che non c'è più l'11. Non mette più nessuno l'11. Infatti, uno che adesso è al centro delle polemiche è Chiesa. Ti faccio una domanda. Tu ti aspetti tutte le partite qualcosa da Chiesa, no? Chi è io e ventino qua? Io. Ok. Tu da Chiesa ti aspetti qualcosa o no? Io mi aspetterei di giocarsi nel suo ruolo anche. Ok. Un'altra polemichetta che buttiamo lì. Esatto. Però dico, ti aspetti sempre che faccia la differenza. Sì, certo. Lui e Vlaovic, sì. Però Vlaovic ha avuto una reazione. Ti dico, a me mi dicevano perché quando fa gol è tutto a posto, quando non lo fai è scarso, no? Per me Vlaovic a Fiorentina, quando lo guardavo, io dicevo questo è, ma secondo me, ma secondo me perché lui fa il mio ruolo. Quindi so come si muove, so quando deve andare incontro, so quando deve andare lungo. Poi uno dice, ma è un po' grezzo ancora con i piedi. Ma sì, ma ci sta tutto. A 22-23 anni è normale. Ma io ho visto un grande attaccante. È fatto 17 gol. Poi tu mi dici, vai la Juventus, è più difficile. Sì, perché la maglia è più pesante. Inter-Milan-Juve, le maglie sono più pesanti. Ci mancherebbe. Però l'annatore è un giocatore che si impegna tutte le domeniche. Quindi lui ci sta che, essendo giovane, ha bisogno più della squadra, no? Rispetto a un altro. Milik non ha bisogno della squadra, no? È già più morbido, no? Pulisce di più le palle. Lui forse fa un po' più fatica all'inizio, no? Però quando uno è forte, secondo me, Bobo, è sempre forte. Ci vuole un po' di tempo. Perché andare all'Juve, andare all'Inter al Milan, è più difficile. Hai più pressioni, no? Tutti ti vogliono battere. Hai 10.000 critiche in più. Io l'ho sempre difeso, ma non perché ci esca... Io, Vlaovic, non l'ho mai visto dal vivo io, eh? Gli metto i like, gli iscrivo, complimenti, bravo. Non lo conosco io, eh? Non lo faccio perché vedo delle cose in lui che mi piacciono, no? Quindi io ho sempre detto che, su tutte le visite che ho fatto, per me è forte, forte, Vlaovic. Ho letto una statistica che dal inizio 2024, quindi da gennaio, ha fatto 9 gol su 13 tiri. Quindi per me... Non è che alla Juve ti capitano 2.000 occasioni, eh? Allora, bravo. Devi essere bravo a tirarle dentro. Quindi tu mi dici, gli attaccanti fanno fatica alla Juventus a far gol? Sì, perché non è una squadra che è portata ad attaccare come gli altri. Gioca più in contropiede, no? Ma da un autobich con l'atletico ha fatto gol a quarta occasione, quindi all'Inter ne capita. Però vedi, avercene 4, 5, 6 pulite. Però comunque già sta giocando meglio, è più tranquillo perché ha fatto qualche gol. E ieri sta facendo 1-2 gol a partita, no? Quindi prima era bravo, poi non era bravo, ora è bravo. Io non avevo... O uno è sempre bravo, o uno non è mai bravo, no? Ci sta che... Io pensavo questo. Ci sta che va via e va in un posto e fa 25 gol all'anno. Allora, cosa vuol dire? Ci sono i giocatori che in certe piazze non riescono a rendere, ma non vuol dire che non sono bravi. Vuol dire che per mille motivi in quella situazione, con quella squadra, non si è trovato benissimo. Ma ci sta. Ci sta. Però bisogna avere la pazienza, come dico sempre, e aspettare questi giocatori giovani. L'hanno pagato 70 milioni di euro, vorrai aspettare un anno o due anni o no? Quando sono così giovani, fia che dell'investimento... Il problema è che non c'è mai tempo per nessuno, no? Ma ci vuole un po' di tempo. Chiesa comunque, si è rotto i ginocchi un anno e mezzo fa. Quante anni fa? Non lo so. Ma se tu stai fermo un anno, si dice sempre che ci vuole un anno prima che ritorni come prima. Se ritorni come prima. A volte il ginocchio non ha più quella forza di prima. Quindi tutti i giorni a lavorarci. Non è facile, capito? Penso che tu entri anche in l'aspetto mentale, che ti sei fatto male, hai paura di rifarti male, eccetera, eccetera. Quindi ti dico, io a Chiesa, ma io lavorerei nella mia squadra sempre. Fortissimo. Ci sta un momento un po' così, così. Ma come fa uno o due gol, cambia tutto. Io la vedo così io, eh.